Ma è possibile che non riesco a giocare con la Soul Jungle? Diceva di divertirsi Alem, ma se non sartano le partite sarebbe la parte divertente. Mannaggia, oh mannaggia. No, ma non era un messaggio... Ah. Ah, ho letto male. Cioè, ci poteva stare alla fine. Alla fine era un messaggio amichevole, voleva solo un consiglio. Vabbè, vabbè, non giurico. Grazie, no, pensavo, pensavo... Io sono tonto però, ho realizzato tardi. Voleva solo un consiglio. Sono d'accordo, cioè, voleva solo un consiglio alla fine. Secondo me era felino, vabbè. Comunque. Mmm, io prendo il pulcino. Guarda che bellino. Guarda che bel draghino. È un po' roviscio, mannaggia. Ogni risposta sarebbe stata bannabile. No, non dico che uno deve rispondere... Vabbè, non è importante. Ah, perché c'è la... Oh. Grazie Barbie, è 36. Vediamo un po', vediamo un po'. Dove sta, dove sta, dove sta? Ah, mi sperito una playlist, o no? Ragazzo, mi serve l'isci, prego. Credo di aver bisogno di l'isci almeno. Dai, solo con la sola mi piace, please. Datemi una manina. Fate i bravi, fate. Fate i bravi, datemi il leash. Male, comunque, il dragone. I'm suffering. Ma devo tenerlo... Devo tenerlo premuto, ho sbagliato. Eh, non sono press time, ragazzi. Un po' di pazienza. Eh, guarda come clara bene, però, fighissimo. Oh, ho terminato il mana. Questo potrebbe essere un problema, suppongo. Figo, figo. E si regola, esatto. No, aspetta, forse non devo fare questo campo. Vabbè, it's fine. Aspetta, no, 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 no. No, 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 disastro. Disastro mi è... Mi riesco ad usarle. Sono proprio un po', lo sono. Vabbè, dobbiamo un attimo masterare, dai. Siamo al first time Un attimo di pazienza Vogliamo gankare Probabilmente non dovrei gankare già Dovrei finire di clearare Però guarda questo è pushato Pare quasi gankabile Guarda il ghost Ma mi servirà la W per gankare suppongo Aspetta Vabbè abbiamo preso il flash Poteva essere peggio Allora prossimo Prossimo game full clear livello 4 Livello 4 si gank Perché senza W è un po' più pega Oh shit No 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 non ho la W per scappare Ho commesso un errore Ok capiamo i dodge Vabbè flash 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 Ok Non è bad Non è bad Mi ha preso il flash La goccia la prende? Eeeh No ma Ho sbagliato prima Ho sbagliato Devo fare la goccia Se arrivi alla goccia Vabbè prossimo recall goccia Stiamo masterando guys Un attimo di tempo Un attimo Un attimo di tempo Mi sta rivoltando la tomba di Twitch Ok Ok allora Adesso la La roba No C'è vai Ma basta Che è successo Alla mia spell Cos'è successo Spiegatemi ragazzi Dove è finita la mia La mia Il mio essere magico Ma la devo tenere premuta? Aspetta La devo tenere premuta? La devo premere una sola volta? Ma io l'ho premuta una sola volta Boh È strano sto sempre Devo dire è strano Non funziona tanto bene la jungle Non funziona tanto bene in generale Mi sembra di capire Grazie Faffo Benvenuto Allora Quindi così Guarda che roba No bellissimo Ho finito il mano Che senso Ho finito il mano Ho appena castato una spell Credo Di premere Troppo presto è Alien faliandri senza Vedi Vedi che non si prende la goccia Vedi che non si prende la goccia Tonti Allora Gli avversari hanno fatto un drago Chilling però Qua non posso castare Ok però posso castare Cioè se non l'ho ucciso Durante No 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 Ti prego Ok Meno male Resettiamo Alien Sare in mana Mi bastano Due game per master Adesso l'aspetta Ok Fai la goccia È meglio per tutti Ma no Ma se lui non fa la goccia Non si fa la goccia Ragazzi Non è che devi imparare A giocare male il champ Impara a giocare bene il champ Ora Un attimo Un attimo di tempo Un attimo di tempo Easy Lo devo fare dietro questo Suppongo Ma va bene lo stesso Sarebbe una bella comodità Sì No Dai Manna Allora devo Ragionare di più Comunque hanno flashato Cioè non sono sicuro Di aver sbagliato qui Però Magari potevo fare qualcosa in più Posso anche un peperone A poco mano Mi accompagneresti Grazie Sennò possiamo Guarda possiamo Metterci qua Grazie per il tab Nami 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 Tra l'altro Mi ha detto Alien Il champ E scaling Quindi se Erlich Non performiamo Ci sta Grazie Look Devo andare A dare la wave Big one Ok Ok dai Stiamo ingranando Eh si vede Si si vede Che noia sto champ Ma no ma Prende sono io Che non lo so Aspetta Non giudichiamo Così in fretta Magari sono io Che non lo sto Facendo brillare Diciamo Oh Ops Intanto Laser sul blue buff Ok Guarda che bellino Guarda Vai fai a dire Che noia Guarda che roba Devo guncare Ragazzi Ce la devo fare Un gank Che funziona E' questo E' questo Sta in Italy Già morta E' già morta In Italy Non lo so Ma è già morta Però la R di Yasuo Ma la R di Yasuo Scusate E' colpa di Yasuo Siamo d'accordo Non ha voltato Sulla mia R Eh Non lo lanci in aria Ma non lo lanci in aria Scusate Su Credo di si Stunni non lanci in aria Ah Beh Che dire Ok Learning Beh Già abbiamo imparato una cosa in più Con un solo gank Pensa che roba Assurdo No Ma si aveva il piccolo davanti Oh Ma che cacchio Sta arrivando Sta arrivando bot guys Ah Ho costato Ho costato Ho costato Bastardo di umilio Ho costato Mi hai tirato la palla Mi hai tirato No Oh Che disastro Questa era Un'azione pesante Da subire Questa era pesante Dobbiamo provare Mi Dobbiamo provare Non sta capendo bene Come funziona Comunque Per ora Primo game però Chill La Nelly Caspita Sta dominando la top Immagino si maxi E come in seconda No Sono d'accordo Non è molto carica la mia Qualcosa ho sbagliato La W Benissimo Prendo item Prendo item Primo spike raggiunto Dai Cheating Ok Ok Grazie Prossima volta Maxima W Abbiamo imparato Un'altra cosa Ok Assol jungle In meta Vi direi Non particolarmente Sto cancare mid Ma sono solo 1-1 con Lux Non lo so Penso di perdere Onestamente Magari se cast Per prima Non ha motivo di castare spell Capito Ok I guess I mean Non pensavo di vincere contro Lux Però non pensavo di venire one shotato Ma noi siamo da scaling Sì Dammi un attimo di tempo E performiamo Bisogna ancora di 5 minuti di gameplay Per capire appena il champ Volvera di stelle Esatto Grazie Loris Forse 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 torniamo alla challenge A supporto ragazzi Ma Subire danni dei campi Guarda Penso Ultimi problemi Tanto alla fine La vita la recuperi sempre In jungle In un modo o nell'altro Però Ho pochissime stack di R Mi sembra Evidentemente Non Non faccio un ottimo lavoro La stittando Credo Ho Il mio campo Sob Ma Lei la posso tenere Per la fine dei campi Però una rottura di scatole Perché poi devi ricastare la Q Boh Bella rottura Castare la Q Per clearare i campi Non penso sia worth it Allora Non ho stack di Di nuovo Di Di passiva Per la R Però vorrei comunque Ammazzare in Italia Lo smite Il ghost Oh Finalmente That works Stavate 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 Ci potrebbe essere Vai Mannaggia Ce l'avevo Il sospetto Dovevo Pensavo di aver maxato Ok L'acqua è maxata Guys L'acqua è maxata Chill No abbiamo visto Pazza Però guarda il signor flambo Se ne va Alla fine se ne va Adesso abbiamo un po' di scaling in più Aspetta Prendiamo prima il libro Posso indebitarmi Ma non ho Robbe da acquistare Il campione è bizzarro Capiremo Capiremo Oh fuck Adesso la posso ricastare instant Giusto? Ah adesso è proprio infinita Fantastico Allora ti ho detto Scusate Chiaro Proverei bot Vorrei fightare ancora Sono un tonto perché Vabbè Bene È comunque fine Oh grazie Elisa del ride Dai di una mano qua va Finalmente ora sblocco L'ultima powered Ho però broken a fare il drake No aspetta 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 Mi sarebbe No 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 Ok Abbiamo preso la stack Eh ho appena cambiato E ho appena cambiato E ho appena cambiato Oggi è il primo giorno Oh guarda come clear Bene adesso Figata Posso cancare con questo mano Finalmente l'ultima powered guys Tempo di brillare Grazie Sì 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 Performing Finalmente Mi spiace Vernami Però non potevo fare granché No ma Sono trollato da sola Mi sono Andiamo base Ehi Ecco ecco scusate My bad my bad Oh Due campetti scammati Non bello Sì però Sul più bello Il game sta per finire Finalmente ho scalato Posso fare robe Ma la doppia Pustire sette In qualche maniera O semplicemente Alsa molto poco Cooldown Ah vedi Vedi Figo Cooldown Tonto quanto suona Ah questa era frida Forse devo costare Con Croucher è meglio Fuck E come terzo item invece cosa si builda? Guarda la tank nida di Chad Terzo item boys Rabadon cosa devo fare? E andiamo a Rabadon Lasur Possiamo aiutarlo La mia area non è ancora in power No manca pochissimo però Ha anche un po' poco mana Vediamo a fightare La maledetta Lux Fa male comunque come fight time Secondo me è Slowly learning Ah ok Se ping mi dice quante stack mancano Eh veramente La maledetta Lux Mi sta distruggendo Fastidiosissima Io su Un po' confuso forse Però Ah no adesso ho l'ultimo power Ok Allora dobbiamo andare a fightare Dobbiamo andare Eh platino per ora Si sta svegliando esatto Buonasera Grazie Ricky Buonasera Non so se aspettare No La area è staccata Che dico Siamo Siamo a posto Siamo Eh magari Riusciamo a farlo funzionare lo stesso In maniera Più o meno Ok Il master Immagino sia fattibile È uguale Quella vai sembra a me Sembra Ma no Ma dove è andato il mio drago Mannaggia Problematico Le stelle si ammigliano solo per me Possiamo forzare Baron Possiamo anche direi Oh Forzare fight Ma raga roba Broken Ma come mai ogni tanto appare un execute invece Questo game Non ho praticamente mai costato Non bello Dai questa è la mia buffa Potevo finalmente fare qualcosa di decente Intanto la prima è una win La F execute Ah ok Figata Eh però sì Ho questo tanto quando Milio mi ha knockbackato Mannaggia Oh prima si è ca-win intanto eh Che non arriviamo? Cali o Anche la botti in realtà Boh diamola a lei Non saprei Non saprei C'è confusione Va bene va bene Va bene va bene Sì